In questo episodio ci interesseremo delle proposizioni relative. Cominciamo subito col dire che le proposizioni relative si dividono in proposizioni relative proprie, di cui ci occuperemo nella prima parte di questa video-lezione, e proposizioni relative improprie, che affronteremo invece nella parte finale. Cominciamo, come al solito, da un esempio. Vediamo il periodo. Luca è un ragazzo che studia moltissimo. È un periodo caratterizzato da due proposizioni, di cui la seconda, che studia moltissimo, è evidentemente subordinata, cioè retta dalla proposizione Luca è un ragazzo, che ovviamente sarà la reggente e quindi la principale in questo caso. Andiamo a vedere però la funzione di quel che, a chi si riferisce quel che, che si riferisce al ragazzo e soprattutto che studia moltissimo, di fatto noi lo possiamo trasformare in un attributo. Per cui possiamo dire, trasformando il periodo in una frase semplice, Luca è un ragazzo studiosissimo. E allora possiamo dire che quando abbiamo la possibilità di trasformare una proposizione subordinata in un attributo, ci troviamo di fronte, quasi sicuramente, a una proposizione relativa propria. Continuiamo. Quest'estate ho visitato Vienna, che è una città meravigliosa. Anche in questo caso noi abbiamo due proposizioni, di cui la seconda, che è una città meravigliosa, è chiaramente subordinata alla prima, quest'estate ho visitato Vienna. In questa proposizione, cioè che è una città meravigliosa, il che si riferisce a Vienna e in particolar modo possiamo dire che questa seconda proposizione, che è una città meravigliosa, noi lo possiamo cambiare, un po' come abbiamo fatto nella slide precedente. Cioè, quest'estate ho visitato Vienna, che è una città meravigliosa, può diventare una proposizione principale, semplice. Quest'estate ho visitato Vienna, una città meravigliosa. In questo caso una città meravigliosa è una posizione, quindi possiamo dire che quando noi possiamo trasformare una proposizione in una apposizione, probabilmente ci troviamo di fronte a una proposizione relativa propria. Continuiamo con un altro esempio. Ho letto il libro che mi hai consigliato. Anche in questo caso abbiamo due proposizioni che mi hai consigliato, che la subordinata, perché dipende da ho letto il libro che la reggente. Analizziamo l'elemento che congiunge la proposizione subordinata alla proposizione reggente, cioè quel che. Il che fa riferimento al libro. Che cosa ho nella proposizione subordinata? Il libro che mi hai consigliato, quindi non un libro qualsiasi. Noi assistiamo, cioè a una sorta di espansione di un termine presente nella proposizione principale, o per certi aspetti una precisazione del termine stesso, quindi come dicevo prima, non i vari libri, ma proprio quello che tu mi hai consigliato. E per certi aspetti anche una sorta di restrizione del campo, nel senso che tra i tanti libri io ho scelto proprio quello che tu mi hai consigliato. In questo caso, quindi, noi possiamo dire di trovarci di fronte a una proposizione relativa propria. E allora è arrivato il momento di provare a dare una definizione della proposizione relativa propria. Si tratta di una proposizione subordinata, come vi ho visto negli esempi, che determina o espande, abbiamo detto anche precisa, eccetera, un elemento presente nella reggente, a cui legata per mezzo di un pronome o un avverbio relativo, e non solo vedremo poi successivamente, completandone il significato. Vediamo allora, a questo punto, gli antecedenti propri delle relative. si può avere con un pronome relativo che può essere anche misto, cioè non soltanto il che, ma anche chi, chiunque, e poi, come dicevamo nella definizione, anche un avverbio, ma anche una locuzione avverbiale, e cioè l'avverbio dove, oppure locuzione da dove, e poi dovunque, ovunque, e ovviamente termini simili. In quale forma possiamo trovare le proposizioni relative? Possiamo trovarle in forma esplicita con l'indicativo, quando appunto la relativa presenta un fatto, dato per certo, ritenuto dei più reale. Luca è un ragazzo che è nato a Napoli. Si tratta ovviamente di un fatto, possiamo dire, documentabile. Oppure possiamo avere la forma esplicita con il congiuntivo, quando il fatto appare incerto, dubbio, sperato, temuto, cerco una persona che sappia la strada, che possa quindi aiutare il soggetto a non perdere tempo. Oppure si può avere la forma esplicita con il condizionale, anche in questo caso, quando il fatto denunciato nella proposizione relativa appare come possibile oppure ipotizzabile. conosco una persona che potrebbe risolvere il tuo problema. Non ne sono certo, quindi anche qui c'è l'incertezza, il dubbio, eccetera, però c'è anche l'ipotesi che quella potrebbe essere la persona giusta per te. Ma le proposizioni relative si possono anche avere in forma implicita, con l'infinito e con il participio. Vediamo come abbiamo le proposizioni relative con l'infinito. Questa è l'automobile da riparare. Abbiamo appunto l'infinito, questa volta preceduto dalla preposizione da. Oppure possiamo avere anche l'infinito, come nel secondo esempio, queste sono le persone sulle quali contare, cioè preceduto da un pronome relativo anche misto. Oppure possiamo avere l'infinito che si lega direttamente alla proposizione reggente. Ho visto il ladro scappare. Con il participio possiamo avere, come nel primo esempio, l'aereo proveniente da Torino in orario, cioè il proveniente con il participio presente, oppure la ragazza, Amata da Roberto, ha cambiato scuola, cioè con il termine Amata, quindi con il participio, questa volta passato. A questo punto, concluso il discorso sulle relative proprie, andiamo a vedere altre proposizioni che sicuramente possono essere catalogate tra quelle relative, ma presentano una sfumatura particolare. Cominciamo, come al solito, dall'esempio. Gli ho visti che entravano nel portone di casa. Si tratta anche qua di una proposizione caratterizzata, anzi di un periodo, scusate, caratterizzata da una seconda parte che entrava nel portone di casa, evidentemente una subordinata che dipende dalla principale, dalla reggente, gli ho visti. Anche in questo caso abbiamo questo pronome relativo a che, ma proviamo a ragionare un po' su questo pronome. Questo pronome che, appunto, pur facendo rifiudimento alle persone, cioè visto quelle persone, di fatto può essere reso anche in una maniera molto particolare. Gli ho visti mentre entravano nel portone di casa. Quindi li ho visti proprio in quel distante, mentre stavano solcando, mentre stavano entrando nel portone di casa. Quindi possiamo dire che quel mentre ci ricorda una proposizione temporale. In questo caso, quando il che può essere in qualche modo modificato a una sfumatura temporale, e quindi può essere trasformato in mentre, e quindi in una proposizione temporale, noi possiamo dire di essere di fronte a una proposizione relativa, impropria. Continuiamo. Amo Claudia, che è dolcissima. Anche in questo caso abbiamo due proposizioni. La seconda, che è dolcissima, una subordinata rispetto alla prima, che è la reggente. Amo Claudia. Analizziamo ancora questo che. Questo che fa riferimento sempre a un antecedente presente nella posizione reggente, in questo caso Claudia. Ma proviamo anche in questo caso a trasformare quel che in qualcosa di diverso, o comunque dargli una sfumatura. Cerchiamo di capire meglio Amo Claudia, che è dolcissima, vuol dire anche Amo Claudia, perché è dolcissima. In questo caso quindi quel che prende una sfumatura causale, e quindi possiamo dire che quando il che prende questa sfumatura particolare, cioè causale, mi trovo di fronte a una proposizione relativa, impropria. Vediamo quest'altro esempio. Cerco qualcuno che mi indichi la strada. Anche in questo caso due proposizioni. Che mi indichi la strada subordinata. Cerco qualcuno che è la reggente. Ancora una volta il che è la subordinata che fa riferimento a un elemento importante presente nella proposizione reggente. E ancora una volta proviamo a dare una sfumatura migliore a questo cerco qualcuno che mi indichi la strada. Cosa vuol dire? Cosa possiamo trovare dietro questo? Che? Come possiamo modificarlo? Quasi parafrasarlo? Cerco qualcuno affinché mi indichi la strada. E quindi affinché mi riporta le proposizioni finali. e quindi ogni volta che il che ha una sfumatura come affinché e ho congiunzioni simili di fatto ci troviamo di fronte a una proposizione finale e cioè una relativa impropria. Voglio un pc nuovo che funzioni. Ancora una volta la nostra analisi parte dalla divisione di questo periodo in due proposizioni. Che funzioni? è la proposizione subordinata voglio un pc nuovo e quella principale. Ancora una volta questo che fa riferimento a un termine presente nella proposizione principale reggente un pc nuovo. Cerchiamo di dare una sfumatura anche a questo che. Cosa vuol dire? Che funzioni? Cioè cosicché in modo tale che funzioni. e quindi vediamo che questa nuova proposizione voglio un pc nuovo cosicché funzioni mi ricorda tanto una proposizione consecutiva e allora quando il che ha una sfumatura consecutiva quindi può essere parafrasato modificato con cosicché e similari mi trovo di fronte a una proposizione relativa impropria. Continuiamo con gli esempi. Giulia che studia musica da sei anni non vuole suonare la mia festa. Anche in questo caso mettiamo in evidenza la proposizione secondaria che studia musica da sei anni anche in questo caso abbiamo un che che fa riferimento a un elemento importante presente nella proposizione reggente cioè il che fa riferimento a Giulia proviamo anche qui a trovare una sfumatura questo che cioè modifichiamo questo che parafrasiamolo e allora possiamo dire Giulia sebbene studi musica da sei anni non vuole suonare alla mia festa e allora quando il che ha questa sfumatura concessiva quindi può essere parafrasato con sebbene e congiunzioni similari possiamo dire che ci troviamo di fronte a una proposizione relativa impropria. A questo punto possiamo dare una definizione anche di proposizione relativa impropria e la definiremo come una proposizione comunque subordinata che determina o espanda un elemento presente nella reggente a cui è legata per mezzo di un esso relativo ma che può assumere funzioni particolari ecco perché la definiamo impropria cioè non è propriamente una proposizione relativa perché quel nesso relativo quel che che abbiamo visto negli esempi può avere delle sfumature particolari e quindi le proposizioni relative improprie possono essere di natura temporale causale finale consecutiva e concessiva e concessiva di un'esercizio